Il presidente di Acrea, Rocco Gaetani, ha incontrato presso la sede aziendale le rappresentanze dei lavoratori alle quali ha annunciato l'avvio del piano straordinario di pulizia della città in calendario per il mese di dicembre. Per questo intervento straordinario voluto dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di migliorare il decoro urbano in previsione dell'avvio del servizio di raccolta differenziata, Acrea farà ricorso a 13 lavoratori ex acros per un periodo di 4 mesi in regime di part-time. Soddisfazione è stata espressa dai sindacati, i quali hanno apprezzato lo sforzo dell'azienda che si è fatta carico delle richieste dei lavoratori, stanziando risorse economiche aggiuntive senza aggravio per le casse comunali rispetto ai 54 mila euro netti deliberati dall'amministrazione civica per il piano straordinario. L'accordo con le organizzazioni sindacali, ratificato, si pone pertanto in un quadro di continuità con l'avvio della raccolta differenziata prevista nei primi mesi del 2019, per la quale Acrea e Comune auspicano un graduale assorbimento del personale ex acros. Nel corso del franco e costruttivo confronto, i rappresentanti dei lavoratori hanno anche avuto modo di condividere il progetto aziendale, sottolineando in particolare come l'operato della società in house crotonese rappresenti oggi un modello virtuoso del complesso scenario regionale dei rifiuti. Grazie a tutti!